Ehi, ciao. Ho ricevuto il tuo sms. Tutto bene? Ma che hai fatto all'occhio? C'è qualcosa dentro e cerco di farlo uscire. Cos'è questa puzza? Che puzza? Puzza di... Di letame. Sì. Che cos'è? È letame. Emily e io siamo andate nel maneggio dove la di Laurenti esportava a Bethany. E avete scoperto qualcosa? A Bethany non piaceva essere comprata. E il cap di mia sorella era lì. Aspetta, cosa? Anche Melissa è stata lì? Forse. Oppure A, sapendo che andavamo lì, ce l'ha messo apposta. Che ti è successo all'occhio, Spencer? Siamo rimaste chiuse in un box e il cavallo accanto a noi si è imbizzarrito e poteva addirittura ucciderci a calci. Anche questo incidente è colpa di A. Toby. Sono solo stanco di sentirmi in questo modo. Di sentirti come? Impotente. Ti ho chiamato per dirti questo. Che per fortuna un cavallo ti ha risparmiata? No. Per dirti che mi dispiace. Di che stai parlando? Se tu, diventando un poliziotto, porrai fine a questa storia, ti dico corri. Studia tanto. Diplomati presto. Perché tornare in questa casa con i miei che si separano e Melissa che forse è coinvolta, è sempre più intollerabile. Perché io non ci riesco? Tesoro, c'è una quantità limitata di carta velina. Mi vuoi svergognare? Tu sei senza vergogna. Senza vergogna? Tu sei senza vergogna.